Lui è un docente all'Università di Udine, ma è anche un esperto in geopolitica ed è responsabile di Limes Friuli Venezia Giulia, il professor Guglielmo Cevolin. Cipro e Grecia, cosa ha significato? Beh, significa il Mediterraneo, significa il problema dei migranti, significa per esempio i finanziamenti che ha dato l'Unione Europea per quei campi profughi che abbiamo visto erano abbastanza belli, tra virgolette, anche se tenete presente che non c'è l'acqua calda, cioè non è che... sì, è una situazione piacevole, ecco. Certo, è la prospettiva che sia Papa Francesco, ma anche Draghi, hanno sottolineato Draghi... Tra l'altro tu hai presentato oggi, professore, abbiamo anche le fotografie, Occhi Mediterranei, no? Sì, è un libro di Rosanna Giuricin e Christophe Palomar, che praticamente sono, potremmo dire, d'accordo su questo sguardo, cioè sguardo sul Mediterraneo come un centro culturale ed economico. Se noi riflettiamo sull'IMES, per esempio, viene considerato il Mediterraneo mediooceano, perché in realtà è tra l'oceano, potremmo dire, cinese e l'oceano atlantico e quindi è un luogo fondamentale per l'economia, ma anche dal punto di vista culturale, cioè è un luogo dove si incontrano le culture e sono con Venezia, sono rimaste anche a fare affari e non a fare guerra, perché la guerra con Venezia si faceva una volta ogni otto anni. Grazie, professore Guglielmo Cevolin, è un centro universitario, ma è esperto in geopolitica e lo si sente, ed è responsabile di l'IMES Friuli Venezia Giulia.